Gentili telespettatori, buona giornata. Nella faziosità che c'è in Italia, i muri ideologici, c'è anche chi difende chi è indifendibile, come Michela Murgia e Saviano che hanno detto delle corbellerie senza precedenti, immaginando saluti romani e inni risalenti al ventennio, che poi esistevano solo nella loro mente, data dalla mancanza di cultura generale, nel senso che credo che anche il mio vicino di casa che ha fatto il militare avrebbe compreso che alla parata del 2 giugno quelle grida e quelle braccia alzate non erano né saluti risalenti al ventennio e neanche motti o grida per salutare i nuovi nostalgici che c'erano in tribuna. Ecco, quindi una gaff ideologica data dalla mancanza di conoscenza dei fatti durante la festa della Repubblica, una figura dove questa murgia poi non ha neanche chiesto scusa. ma Saviano è completamente, non ha detto più niente, quindi Saviano ha preferito star zitto capendo che aveva detto delle sciocchezze immense, mentre la murgia invece ha detto sì, vabbè, ma comunque anche se non era un saluto romano, anche se non era un inno del ventennio, comunque sia la russa era troppo felice quando passavano questi militari, faceva il segno di vittoria, quindi secondo me lui immaginava che quel braccio alzato fosse un'altra cosa, lui immaginava che quel decima, gli è piaciuto immaginare che quel decima si riferisse alla decima massa e quel braccio alzato fosse un saluto romano, quindi tutto un processo alle intenzioni per non dire mi sono sbagliato. Ecco, io noto che diverse persone di sinistra hanno questa caratteristica di non ammettere quando sbagliano, di essere intolleranti, intransigenti, e questo è molto 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 poco intelligente e anche molto poco democratico. Diciamo che persone che impediscono agli altri di parlare, che non chiedono scuse, anzi inventano delle cose, che accusano altri di fare delle cose inesistenti, a me sinceramente preoccupa, è un atteggiamento preoccupante perché non ha nulla di democratico, nonostante queste persone facciano riferimento a un'area politica definita democratica. Ecco, questo è preoccupante. E poi c'è anche una schiera di persone che difende questi indifendibili, questi impresentabili. Ad esempio c'è Luca Bottura che sulla stampa, già dicendovi sulla stampa, ribalta la frittata e accusa chi si è permesso anche solo per un istante di far notare lo scivolone della murgia. Le parole di Bottura sono piuttosto dure. Branco di vili che odia la murgia. C'è un godimento perverso e trasversale nell'assedio di stampe social di cui è preda Michela murgia, da che ha confuso un saluto un po' romano, come avrebbe detto Gaber, per un saluto romano a Kurt. Un saluto un po' romano. Avete capito? Un saluto un po' romano. Quindi chi di voi si è permesso di criticare la murgia per aver detto delle cose senza senso? Secondo questo voi siete un branco di vili che odia la murgia. Ma non è la murgia che odia gli altri? Perché nessuno odia la murgia, perlomeno io non odio la murgia, anche voi credo che non siate avvezzi ad odiare gli altri. Ci sono gli odiatori quelli che ho io, gli odiatori quelli da tastiera, quelli che nascosti dietro la tastiera me ne dicono di tutti i colori. Però naturalmente non credo che la maggior parte di voi odi la murgia. Forse è la murgia che odia voi, in quanto magari appartenenti a un'area politica che lei non condivide. Quindi Branco di vili, nel senso, ha detto una cosa assurda. Ha offeso le forze armate, la marina militare, ha offeso la seconda carica dello Stato, la russa, hanno offeso anche il Presidente della Repubblica dicendo che era lì passivo mentre c'erano saluti romani e inni fascisti. Quindi ha offeso, insultato le più alte cariche dello Stato, le forze armate italiane, dicendo cose proprio per mancanza di cultura sua personale generale e poi arriva questo tizio famoso, quindi fa notizia perché è uno famoso, che ci dice che siamo un branco di vili. Ecco, ritornando a quello che vi dicevo prima, un comportamento di questo tipo a me personalmente fa paura. Non so a voi, a me quelli di destra non fanno paura per niente, niente, nulla, nulla. A me Meloni, La Russa, Lollo, Salvini, Berlusconi, a me non fanno paura per niente. Però quando guardo queste persone intolleranti, libide di odio e di rancore, a me sinceramente cominciano a fare un po' di paura. Oggi sono anche nell'angolo perché hanno perso il potere, le poltrone, i posti di comando, hanno un capo politico che fa ridere davvero tanto, quella è nascosta. Quindi hanno perso potere, visibilità, hanno un capo politico che chiunque in Italia è meglio come politico di lei. Anche il mio vicino di fronte, quello che abita di fronte, che fa il consigliere comunale, secondo me è meglio perché chiunque è meglio della Schlein. Quindi capite anche che hanno una certa frustrazione perché nessuno li ascolta più. Gli italiani votano per la Meloni. La Meloni ha tenuto il suo consenso. Il governo non si è schiantato come loro profetizzavano. Entro dicembre, prima di Natale, per la vigilia sarà caduto. Il 26 per Santo Stefano staremo già organizzando le elezioni. L'economia andrà male, saranno isolati. Tutte le previsioni più sciocche non se ne è avverata neanche uno. Certo la Meloni non è perfetta, il governo non è perfetto, però se voi lo paragonate a questi democratici sono dei santi. Eh sì, se la Meloni me la paragonate alla Schlein e tutta questa gente qua, la Meloni tutta la vita. Tutta la vita. Ed è per quello che la Meloni ha ancora il consenso in crescita. Perché quando guardi chi c'è dopo la Meloni vedi che c'è il deserto polveroso e allora la Meloni ha altri 300 anni. Questo è quello che pensano gli italiani. Bene. Insomma, bene è un modo di dire. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.